Torneo precampionato edizione 2009-2010, campionato Xen, siamo sull'impianto di La Steccaia a Castelfiorentino, le due squadre in campo, Barco Lanti della sezione di Castelfiorentino contro Pietra Marina della sezione di Empoli. Arbitra all'incontro il signor Meozzi. Andrea, la mano, se l'è. 2, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Vi ce la faccio di vista. Questa cosa è che la faccio di Vanti della sezione di Castelfiorentino, è un'esercizio di Contelfiorentino, è un'esercizio di Contelfiorentino, si è un'esercizio di Contelfiorentino, è un'esercizio di Contelfiorentino, Non comprare la codice La codice Grazie 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 Grazie! 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 Buongiorno! Buongiorno! Forza, eh! Forza! Buongiorno! Buongiorno! Bravo, Rubens! Dai, dai ora, Rubens! Dai! Dai, dai ora, Rubens! Dai! A banno! Oh! Oh! Bravo, Rubens! Bravo, Rubens! Occhio, eh! Dai, Rubens! Dai, Rubens! Bravo, Rubens! Dai ora, occhio, eh! André, aiuto, eh! Aiuto! Aiuto, aiuto! Noi, bravo, Mari! Noi, ecco, noi, 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 ah! Dai, rubens! Dai, rubens! Dai, rubens! Dai, dai dai! Dai, dai, Nazi!